Vediamo una breve parte della concatenazione di Tai Chi Chuan, è un piccolo passaggio, dura pochi minuti, due minuti circa, e fa vedere un po' l'insieme dei movimenti della concatenazione di quello che rappresenta il Tai Chi Chuan, e cioè una concatenazione di movimenti fluidi, lenti, dolci, che muovono un po' tutte le parti del corpo in armonia, le sfere che compongono il nostro corpo in armonia tra di loro, attraverso questi movimenti si raggiunge quello che è lo scopo del Tai Chi, il percepire, sentire e beneficiare dell'energia interna che abbiamo nel corpo e che impariamo attraverso questi movimenti a muoverla e sentirla nel corpo. Grazie. 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 Grazie.